Partono le ATP Finals a Torino, la terza edizione, ci troviamo a Casa Gusto dove insieme alle istituzioni e a tutte le aziende e ai nostri maestri del gusto abbiamo preparato dei talk, abbiamo preparato le degustazioni, abbiamo preparato delle visite guidate alle piazze, ai musei, ai luoghi storici di Torino e della nostra provincia. Vogliamo accogliere nel miglior modo gli appassionati di tennis, ma tutti coloro che vengono a Torino in questi giorni per una grande vetrina internazionale della nostra città e del nostro territorio. La Camera di Commercio ha lavorato con le associazioni, con il Comune, con la Regione grazie al lavoro di Turismo Torino abbiamo fatto questa organizzazione intorno all'evento sportivo. Vi aspettiamo a Torino, vi aspettiamo nel nostro centro storico.